Buongiorno a tutti. Nel costruire e nel fondare epistemologicamente il proprio oggetto di identificazione formale che abbiamo individuato appunto nel processo formativo, nella formazione degli uomini e delle donne per l'intero corso della vita, abbiamo, credo, compreso che la pedagogia quindi deve, si muove dialetticamente fra il soggetto e la cultura e la società all'interno delle quali questo soggetto si trova a vivere e a formarsi. Nell'analisi appunto del soggetto, della società e della cultura, dal punto di vista ovviamente pedagogico, questo sapere sta, la pedagogia sta dimostrando di essere una scienza capace di non sottrarsi alle sfide complesse e continue della contemporaneità, ma anzi a, come dire, a fornire una chiave di lettura e di intervento rispetto ai problemi, ai rischi ma anche alle possibilità che la società contemporanea presenta. Faccio riferimento a una serie di emergenze educative come possono essere quelle dell'incontro ma anche dello scontro tra culture, fedi, popoli, etnie differenti, ma anche al confronto problematico tra sistemi di sapere, di tecniche e di tecnologie. Dunque, questo cosa richiede? Richiede evidentemente il contributo di una scienza, nel nostro caso appunto della scienza pedagogica, capace di dare risposte idonee ad attrezzare cognitivamente ed emotivamente le persone che abitano il luogo e il tempo della contemporaneità. Come lo fa la pedagogia? Lo fa proprio attraverso quello che è il soggetto costitutivo, quindi attraverso la formazione, nella sua processualità sincronica e diacronica. Attraverso il soggetto costitutivo la pedagogia può e deve contribuire alla costruzione di persone e di personalità capaci di vivere criticamente e creativamente e costruttivamente il tempo della contemporaneità, in modo da poter in qualche modo governare il cambiamento e, diciamo, la permanente transizione che caratterizza oramai costitutivamente il tempo e la società contemporanea. Un tempo è una società che presenta molteplici emergenze, abbiamo già detto. Quali sono queste emergenze? Sono quelle che, per esempio, si riferiscono alla crisi delle istituzioni di socializzazione primaria e secondaria, quindi la famiglia, il luogo di lavoro, la scuola, i luoghi della partecipazione politica, sociale e culturale. Ma mi riferisco anche alla crisi, per esempio, alla crisi economico-finanziaria e alle sue ricadute sul tessuto sociale e anche, come dire, alla sua dimensione oramai globale. Non esiste più ormai, potremmo dire, una tipologia di crisi ristretta ad un territorio. Ma quando noi parliamo, per esempio, anche di crisi economico-finanziaria e poi anche crisi sociale e culturale, noi parliamo di una dimensione che ormai si estende in dimensione globale, in dimensione planetaria. Ma pensiamo anche alla globalizzazione dei fenomeni migratori e alle sue, diciamo, ricadute. Ma pensiamo anche, appunto, ai conflitti che ormai hanno sempre comunque una dimensione planetaria, ma pensiamo anche ad altre emergenze, come quelle, per esempio, legate al degrado ambientale e culturale. Perché ragionare su queste emergenze? Perché l'idea è quella che proprio attraverso la formazione sia possibile, in qualche modo, intervenire su queste emergenze per curvarle in direzione positiva, in direzione emancipativa. Moren parla della necessità di una educazione per l'era planetaria, cioè di una educazione che ha come compito, dice Moren, di porre le basi per una società mondo. Moren parla di terra-patria, no? Cioè di una società composta di cittadini responsabilmente protagonisti e capaci, appunto, di prendersi cura della loro comune terra-patria. Questo contribuisce a definire quello che è il telos della pedagogia, cioè la direzione della pedagogia. Un telos che deve, quindi, andare, diciamo così, nella direzione della costruzione di un umanesimo planetario, capace, quindi, di accogliere e di rispettare, proprio nella ricchezza della pluralità delle sue forme, di rispettare saperi, emozioni, valori locali e globali, cercando di rimediare, appunto, fra l'importanza della dimensione, diciamo così, locale, ma anche la necessità di aprirsi ad una dimensione universale, in funzione della costruzione di persone e di personalità che sappiano essere, al contempo, cittadini del mondo, ma anche protagonisti attivi e critici del loro territorio di appartenenza.